Il cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 8 km di coda per veicolo fermo tra Firenzuola e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Sempre in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio. Verso Roma, rallentamenti tra Badia e Aglio. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sul raccordo Siena, Firenze tutte le notti fino al 30 aprile dalle 21.30 alle 6.00. Chiusa entrambe le carreggiate tra Monterigioni e Colle Valdelsa Sud e chiusa la carreggiata in direzione Firenze a Bargino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!